Ieri era in campagna elettorale per le regionali in Sardegna, no? Infatti indossa la felpa coi quattro mori, di cui almeno tre da rimpatriare. Dunque, da domenica, la Sardegna ha un presidente leghista, Cristian Solinas. Quando Borghezio voleva vendere la Sardegna per saldare il debito pubblico. Cazzo, volevano venderla. In Sardegna tutti si ricordano delle rovesciate di Gigi Riva, ma nessuno si ricorda delle puttanate di Borghezio. Prima i sardi, prima i sardi. D'altra parte, adesso che in Sardegna si è votato, Salvini, chi lo rivede più? L'aveva anche detto chiaro, no? Prima i sardi. Prima. Prima di votare. Dopo, perché se ne freghi.